Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo dei funerali che si sono svolti questa mattina di Italo Delisa, il 21enne ragazzo di Vasto ucciso con tre colpi di pistola da Fabio Di Lello. Migliaia delle persone che hanno partecipato al rito funebre presso la Madonna del Sabato Santo di Vasto. La famiglia Di Lello ha voluto inviare una corona di fiori come gesto di pace in un clima di rabbia che continua a imperare purtroppo sulla rete. Il servizio di Francesca Romana Testi. È stato il giorno dell'ultimo saluto a Italo Delisa, il giovane ucciso con tre colpi di arma da fuoco da Fabio Di Lello, il marito della donna morta in un incidente stradale causato proprio da Delisa il luglio scorso. Un'intera comunità coinvolta in due gravi fatti di cronaca che hanno scosso tutti, le famiglie, gli amici e la cittadinanza. Sono tantissime le persone che hanno partecipato alla cerimonia presso la Madonna del Sabato Santo a Vasto, a poca distanza dal bar dove è stato commesso l'omicidio. Ad accogliere il feretro c'era una banda che ha accompagnato il suo ingresso in chiesa. Un grande silenzio da parte dei presenti è la richiesta di lasciare fuori le telecamere. Per un caso di cronaca nera che ha acceso la rabbia sui social richiedendo anche l'intervento del ministro Orlando per un appello alla calma e alla riflessione su come il giustizialismo possa diventare l'arma più pericolosa di tutte. Un appello commosso e addolorato era arrivato ieri anche dal papà di Roberta Smargiassi. La vendetta di Fabio Di Lello nei confronti dell'assassino di sua moglie non era quello che avrebbe voluto né la sua famiglia né la giovane donna. Un gesto di pace poi è arrivato anche dalla famiglia Di Lello che ha voluto inviare una corona di fiori nel giorno dell'addio al ventunenne che come ha raccontato il padre dopo quell'incidente era già un morto che riveveva quelle scene nella sua mente ogni notte e scappava da una comunità che sentiva ostile e distante. Tre famiglie oggi unite dal dolore del sangue e dalla perdita del proprio caro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Fabio Di Lello comparso questa mattina in carcere davanti al GIP del Tribunale di Vasto Caterina Salusti e del sostituto procuratore della Repubblica Gabriella De Lucia nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Un faccia a faccia durato poco più di due minuti nella drammaticità di un passaggio dovuto per l'omicidio di Italo De Lisa. Non era nelle condizioni e nella serenità necessari per parlare, dicono i legali Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni. A carico di Di Lello la procura ha formulato il reato di omicidio volontario premeditato e si è riservata più tempo in ordine alla convalida e all'adozione delle misure cautelari. Di Lello era in tuta e prima del confronto con i magistrati aveva avuto il tempo di parlare con i suoi legali. Già di buon mattino Andreoni si era recato in carcere per parlare con il suo assistito. E ora continuiamo a parlare di questa dolorosa vicenda ascoltando la testimonianza di Massimo Torricella che era un amico della coppia Roberta Smargiassi-Fabio Di Lello. Voglio sottolineare il fatto che Fabio è sempre stato una persona buona, correttissima, altruista e quindi volevo essere testimone di questa situazione. Nel settembre del 2015 ho avuto occasione di conoscere la povera Roberta a Vasto Marine e aveva bisogno di un passaggio. Per fidarsi ho dovuto dimostrare che conoscevo Fabio e praticamente lei ha accettato il passaggio solo e due esclusivamente con il casco fortemente allacciato. Cambiamo ora pagina. Entro primavera saranno cantierati in Abruzzo i primi 20 grandi interventi previsti dal Masterplan ieri all'Aquila, il punto della situazione del patto per l'Abruzzo alla presenza del ministro per la coesione territoriale De Vincenti. Visita Aquilana ieri per il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti a Palazzo Silone è stata l'opportunità per la riunione del Comitato per l'indirizzo e il controllo per la gestione del Masterplan presente anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Al termine dell'incontro il ministro ha espresso soddisfazione per la prontezza con la quale stanno per essere cantierati i primi 20 grandi interventi del patto per l'Abruzzo pur precisando che lo strumento Masterplan è altra cosa rispetto ai provvedimenti straordinari varati dal governo per far fronte alle emergenze dovute alle calamità del mese di gennaio. Per terremoto e maltempo come sapete ieri il Consiglio del Ministro ha varato un provvedimento ad hoc che sostiene le popolazioni e gli interventi di ricostruzione sui territori e di ripresa economica. Il patto per l'Abruzzo è molto importante perché definisce un quadro complessivo di interventi sia nelle zone che sono state colpite dagli eventi sismici e dall'emergenza neve sia più complessivo su tutto l'Abruzzo che aiuterà la ripresa economica e sociale di tutta la Regione. Ricordo che la Regione ha già fatto registrare tassi di crescita più alti della media nazionale. Dobbiamo continuare così. Il patto per l'Abruzzo è lo strumento per ottenere questo risultato ed è uno strumento di speranza per tutti, anche per le popolazioni più colpite dagli eventi di queste settimane. Abbiamo diversi interventi, più di 20 interventi, che verranno cantierati in questi prossimi mesi, diverse progettazioni molto avanzate con procedura di evidenza pubblica che partiranno molto presto. Io credo che gli investimenti previsti dal patto si cominceranno a vedere già in questa primavera. Tutti i danni diretti e indiretti causati dal maltempo delle scorse settimane saranno risarciti tramite la delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 gennaio. Lo puntualizza il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Gli imprenditori della provincia di Teramo che hanno subito danni a causa della straordinaria ondata di maltempo del mese di gennaio saranno risarciti. Lo ha puntualizzato il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, facendo seguito alle polemiche che si sono innescate all'indomani dell'emanazione del decreto legge per il terremoto, strumento che mette in campo una serie di iniziative a favore dei comuni del cratere sismico e anche quelli al di fuori del cratere, ma con dei danni significativi dovuti al sisma. Per ottenere i risarcimenti dai danni del maltempo, però, gli imprenditori ed esercenti attività della provincia di Teramo e non solo devono rifarsi alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio che riconosce per l'Abruzzo lo stato di emergenza nazionale. Noi abbiamo il decreto legge che si occupa di facilitare la ricostruzione nei comuni del cratere e anche nei comuni fuori cratere che hanno subito danni. Aumentiamo le risorse umane al servizio dei comuni del cratere per quanto riguarda il lavoro amministrativo necessario. Si rende pesante la busta paga di chi lavora nelle imprese del cratere. Si determina lo spostamento degli oneri fiscali e contributivi per le imprese che sono nel cratere. Per quanto concerne i danni da calamità, da avversità atmosferiche, c'è la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio che consente il riconoscimento di tutti i danni che si sono determinati in termini di causa-effetto con la nevicata e verranno coperti così come è già accaduto nel 2015. Quali danni sono oggetto di questa mia precisazione? I danni diretti di beni pubblici e beni privati. Adesso dobbiamo trovare una soluzione per i cosiddetti danni indiretti. Per esempio un danno indiretto, la mancata prenotazione in un albergo, in un lasso di tempo nel quale c'è stata una straordinaria nevicata. Questa è una condizione di danno indiretto che dobbiamo ancora fronteggiare. Tutti i danni diretti da nevicata, oggettivamente dimostrati, trovano copertura. Se Pepe, Monticelli e D'Alfonso non hanno nascosto la propria soddisfazione in riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri in cui la ricostruzione viene accelerata e verranno riconosciuti i danni diretti che abbiano rapporto di causa-effetto con il maltempo, vogliamo dedurre e sperare che l'entusiasmo derivi dell'aver ricevuto rassicurazioni in tal senso da parte dei loro referenti al Governo. Se così non fosse, non solo questi toni trionfalistici sarebbero fuori luogo, ma la mancata considerazione della gravità degli effetti del maltempo sarebbe assolutamente inaccettabile. Lo dichiara in una nota il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi. Ritengo doveroso precisare che purtroppo l'emergenza neve non è affatto rientrata dato che siamo alle presa con forti dissesti su strade comunali e provinciali che stanno mettendo in seria difficoltà viabilità territori e famiglie. Anche il deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, critica il decreto per l'emergenza centro Italia varato dal Governo perché non includerebbe interventi a sostegno dei danni provocati dal maltempo e annuncia una guerra di emendamenti nella discussione per la conversione in legge. Intanto dal centro-sinistra, Gianluca Fusilli, il parlamentare abruzzese, Gianluca Fusilli ribatte gli interventi per il maltempo, sono compresi, come abbiamo già ascoltato, nello stato di emergenza chiesto dal Regione Abruzzo. Alfredo Primante. Il decreto varato due giorni fa dal Governo a sostegno dell'emergenza che sta vivendo il centro Italia in soli due giorni ha provocato un vespaio di polemiche in Abruzzo. Già perché in molti si aspettavano misure per il sostegno alla popolazione colpita a metà gennaio dall'eccezionale ondata di maltempo ed invece, almeno dalla bozza di decreto e dal comunicato stampa di Palozzo Chigi, ci sono solo interventi per il post-sisma e un ristoro per allevatori e agricoltori. Troppo poco, secondo il centro-destra, che con il deputato Fabrizio Di Stefano annuncia una valanga di emendamenti all'atto del passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto. Poi esistiamo che il Presidente si dice soddisfatto. Io ricordo a me stesso che una delle sue proposte principali era la zona franca che non trova traccia, ma al di là della zona franca non si trova traccia di interventi a sostegno degli enti locali che hanno dovuto affrontare spesi ingenti, se non l'emergenza, l'emergenza che era con i primi 30 milioni di Euro che avrebbero dovuto essere seguiti dal decreto conseguenziale. Credo che con 30 milioni neanche Teramo o Chietti riescano a coprire le spese e i danni che hanno avuto. Di Stefano critica le dichiarazioni di D'Alfonso che si è detto soddisfatto delle misure governative ed invita il Governo regionale e nazionale ad occuparsi in maniera stringente anche dei disservizi di Enel, Terna e Telecom al fine di ottenere rimborsi maggiorati rispetto a quanto previsto dalla legge. Io voglio capire, ma su questo ci torneremo dopo che avremo capito il decreto, io voglio capire cosa fa il Governo regionale e nazionale nei confronti di queste strutture che hanno avuto una carenza dannosa per il tessuto sociale ed economico della nostra regione. Quindi qui occorre non il risarcimento dei danni come previsti da bolletta da 603 mila euro, ma qui occorre un'azione decisamente molto più forte e molto più netta. Il centro-sinistra affida la replica all'onorevole Gianluca Fusilli. Nella nota il deputato chiarisce che i risarcimenti per i danni derivanti dal maltempo di gennaio sono stati inclusi nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, come già accaduto con l'emergenza maltempo del marzo 2015. Nella delibera sono stati riconosciuti tutti i danni diretti a cose pubbliche e private che abbiano un rapporto di causa-effetto con il maltempo. Per i danni indiretti invece si attende una quantificazione oggettiva. Un'ordinanza sulle scuole è stata firmata stamani dal sindaco di Taramo, Maurizio Brucchi, che ha disposto la ripresa delle attività didattiche da lunedì prossimo 6 febbraio nell'edificio Scuola dell'Infanzia di Albentis di Via del Baluardo e nella Scuola dell'Infanzia Lettieri di Via Diaz. E poi il trasferimento della Scuola dell'Infanzia, sempre dal prossimo 6 febbraio, il trasferimento della Scuola dell'Infanzia Noe Lucidi nei locali della Scuola Via del Baluardo in Via del Baluardo per numero tre sezioni, il trasferimento della Scuola Risorgimento di Via Flaiani nei locali predisposti al Parco della Scienza in Via del Benedictis e il trasferimento della Scuola dell'Infanzia Ex San Giuseppe di Via Diaz nei locali predisposti nella Scuola Molinari di Piazza Aldomoro. Poi sempre dal 6 febbraio ancora sospensione delle attività didattiche nella Scuola Primaria Piano della Lenta, Scuola dell'Infanzia Miss Gioia, Scuola dell'Infanzia di Colle a Terrato Basso e Scuola dell'Infanzia Piano Daccio. E infine dal 6 febbraio c'è la prosecuzione della sospensione delle attività anche per gli asili nido Pinocchio della Gammarana e Accademia Pollicino di Colle a Terrato Basso. Restiamo a Teramo perché l'aumento delle temperature sta determinando una serie di eventi franosi in ampie zone del territorio della città a causa della grande quantità di neve che si è accumulata nei giorni scorsi. Il Comune stanziando fondi per somma urgenza ha dato il via a interventi nelle quattro zone di Coste Sant'Agostino, Mezzanotte, Rapino e San Pietro Adlacum dove sono in corso interventi di consolidamento e di risanamento idrogeologico e si sta ripestinando la viabilità stradale. Poiché l'entità degli interventi potrebbe richiedere un impegno economico di alcuni milioni di euro il sindaco interesserà la regione Abruzzo e il governo chiedendo espliciti finanziamenti in ragione dell'impegno assunto dallo stesso governatore di adoperarsi per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Dalla stessa regione è stata comunicata la formalizzazione della copertura finanziaria per l'intervento in Coste Sant'Agostino con un importo di 750 mila euro. Un contributo per il quale si legge in una nota il sindaco Maurizio Brucchi ringrazia anche per la rapidità il governatore Luciano D'Alfonso. Mauro Febbo definisce uno scandalo l'appalto per il servizio ristorazione alla Asle di Chieti. Aggiudicato dopo 20 anni adesso i lavoratori si trovano a fare i conti con una forte riduzione dell'orario di lavoro e del salario. Febbo ha annunciato di voler portare la questione alla Commissione di Vigilanza regionale che peraltro presiede. Approderà in Commissione Vigilanza della regione Abruzzo la gara d'appalto per il servizio di ristorazione per i pazienti dei presidi ospedialieri della Asle numero 2. Una gara che si attendeva da un ventennio vinta dalla RT Dusman Servizi Integrati che ha offerto un ribasso d'asta del 5,82%. La ditta appaltatrice ha spiegato il Presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo così come prevedono le norme assorbito il personale che già lavorava per il servizio mensa applicando consensualmente una prima riduzione degli orari di lavoro. Ma nel mese di dicembre la stessa azienda ha inviato una raccomandata ai dipendenti comunicando unilateralmente il cambio del contratto di lavoro portato dal contratto nazionale turismo e commercio a quello delle imprese di pulizie. Ma soprattutto, aggiunto Febbo, assieme ai consiglieri comunali e provinciali di Forza Italia ha effettuato una drastica riduzione delle ore di lavoro settimanali da 20 a 7 per gli operatori della mensa. Una situazione che Febbo definisce insopportabile e che secondo il centrodestra merita approfondimenti e riflessioni rispetto alle esternalizzazioni dei servizi ospedalieri. Magari qualcuno doveva vigilare e capire perché al massimo ribasso non si è andato a controllare questo ribasso forse un errore parte proprio da questo principio perché credo forse che non ci rientro come costi se penso che i lavoratori, e parliamo di un'ottantina di lavoratori che hanno visto prima un accordo intersindacale che si sono autoridotti una parte dell'orario di lavoro oggi obbligatoriamente addirittura l'orario viene dimezzato anche di più ci sono gli aiuti cuochi che da 20 ore settimanali passano a soli 7 ore settimanali cioè un lavoratore che prima riusciva a percepire 7-750 euro al mese oggi non arriva a 200 euro non so come si possa vivere con 200 euro. Sempre secondo il centrodestra ci sarebbe una riduzione anche della qualità dei cibi serviti a testimoniare questo ci sarebbe la riduzione da 430 pasti giornalieri forniti a 230-250 così si dimostra, dicono i forzisti, che i pazienti rifiutano un pasto poco gradito proveniente dall'esterno e non in linea peraltro con la dieta sanitaria pasti che vengono prodotti a Pescara per essere distribuiti ai presidi di Pescara, Chieti, Guardia Grele e Torrevecchia la cucina di Chieti infatti è stata chiusa in attesa di ristrutturazione anche qui come mai da 450 pasti siamo scesi a 230 pasti vuol dire forse che i ricoverati non accettano quel servizio hanno un rifiuto di quel servizio su questo farò ampia luce prima con una convocazione in commissione di vigilanza ma soprattutto andando con dei tecnici a fare sopra luoghi giornali è il primo in Abruzzo lo sportello SOS anti Equitalia inaugurato a Francavilla al Mare dal Movimento 5 Stelle sarà un punto d'ascolto regionale per i cittadini che hanno dei problemi con le cartelle esattoriali uno sportello rivolto ai cittadini in difficoltà con le cartelle esattoriali di Equitalia e questo è l'obiettivo del primo punto civico di ascolto SOS anti Equitalia inaugurato a Francavilla dal gruppo del Movimento 5 Stelle l'iniziativa è al momento l'unica in regione Abruzzo e metterà a disposizione una serie di esperti commercialisti, avvocati e psicologi che gratuitamente cercheranno di indirizzare verso la soluzione i problemi relativi alle cartelle noi abbiamo intenzione praticamente di assistere queste persone dare i consigli, informazioni quelle prime nozioni che sono necessarie per cominciare ad affrontare la problematica poi chiaramente indirizzeremo nei vari professionisti coloro che poi hanno bisogno di portare avanti la pratica chiaramente non vogliamo strumentalizzare la questione però penso che in questo momento c'era bisogno di avere uno sportello come questo è aperto il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 11 in un previo appuntamento abbiamo una mail insomma le troverete comunque anche pubblicizzate e in quella sede poi cominciamo ad affrontare con le persone la problematica con la documentazione che ci porteranno e cominciamo a dare così i primi raguagli e le prime informazioni lo sportello fa seguito ad una lunga battaglia che il Movimento 5 Stelle conduce dal 2014 proprio contro Equitalia i grillini infatti più volte hanno invocato l'abolizione della società di riscossione presentando anche una proposta di legge in Parlamento destinata a trasferire le competenze attualmente in capo ad Equitalia alla Agenzia delle Entrate questo è il primo sportello ma è un sportello a Valenza regionale io ringrazio il gruppo di Francavilla capitanato da Livio Sarchese dal nostro consigliere comunale che sarà il responsabile di questo sportello ogni cittadino potrà richiedere aiuto tutela è una grande rivoluzione è una delle tante rivoluzioni che il Movimento 5 Stelle ha messo in piedi in questo paese un esemplare di lupo è stato rinvenuto senza vita sul ciglio della strada a Pretoro vediamo qui le immagini in questa foto in queste foto come detto è stato rinvenuto senza vita sul ciglio della strada a Pretoro in provincia di Chieti l'animale era arrivato nella zona artigianale del piccolo paese ai piedi della Maiella probabilmente in cerca di cibo il lupo con ogni probabilità è stato travolto da una vettura in transito che ne ha determinato la morte ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la schermata della Serie A una giornata che si aprirà questa sera con la partita del Dallara tra Bologna ed Empoli e poi proseguirà domani alle 12.30 con il match di San Siro tra Milan e Sampdoria e poi le gare del pomeriggio di domani ore 15 Atalanta-Cagliari Chievo-Udinese Empoli-Torino Genoa-Sassuolo Pescara-Lazio poi alle 18 Palermo-Crotone domani sera il big match il derby d'Italia tra Juventus e Inter e poi martedì sera alle ore 20.45 la gara dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina come detto domani all'Adriatico-Cornacchia secondo match consecutivo interno per il Pescara che riceverà la Lazio dell'ex Ciro Immobile partita speciale per il tecnico Biancazzurro Massimo Oddo e il collaboratore tecnico Luciano Zauri che hanno giocato per tante stagioni con la Lazio indossandone peraltro la fascia di Capitano partita da ex anche per il difensore del Pescara Stendardo rispetto alla gara con la Fiorentina la novità principale sarà il debutto di Salle e Montari che prenderà il posto di Alessandro Bruno torna a disposizione Verre che è in lotta con Ben Ali e Memusciai per due delle altre maglie a disposizione per la mediana in avanti ci saranno ancora Baibach e Caprari visto che Girardino è ancora costretto ai box in difesa ancora assenti Coda e Campagnaro torna per la panchina Vittorini quindi spazio nuovamente a Ghiomber Stendardo e Crescenzi centrali Zampano e Biraghi sulle due corsie laterali a metà pomeriggio l'allenatore Massimo Oddo parlerà nella classica conferenza pre-partita le sue dichiarazioni chiaramente le mostreremo nel corso e le ascolteremo nelle prossime edizioni del TG6 sul fronte Lazio l'allenatore Simon Inzaghi deve sciogliere il ballottaggio Lulic-Keita per un posto nel tridente gli altri due vanno a immobile Felipe Anderson davanti al portiere Marchetti a Giranno Basta De Vrij, Wallace e Radu in panchina finiranno Hutt e Patrick in mediana Biglia Parolo e Milinkovic Savic quest'ultimo sbloccò la partita d'andata vinta dalla Lazio per 3 a 0 dopo che nel primo tempo come vediamo il Pescara fa lì un calcio di rigore con Memushai dirigerà la gara Giacomelli della sezione di Trieste e ora vediamo il quadro scendiamo in Lega Pro vediamo il quadro delle partite di questa giornata con il Teramo che in particolare riceverà domani alle 14.30 il Sant'Arcangelo la gara si doveva giocare alle 18.30 poi ad inizio di questa settimana c'è stato l'anticipo di orario le altre partite sono Vassano Lumezzane Fano San Benedettese Forlì Sul Tirol Gubbio Feral Pisalò Maceratese Padova Mantova Albinoleffe Parma Pordenone Reggiana Modena e Venezia Ancona è stata diramata poco fa la lista dei convocati del Teramo manca il portiere Branduani c'è il portiere prelevato in settimana Narciso dunque sarà lui domani a difendere i pali della porta del Teramo torna nella lista dei convocati Scipioni manca il centrocampista Spighi prima convocazione per l'attaccante Riccardo Barbuti che dovrebbe far coppia con Sansovini al centro dell'attacco ascoltiamo come il tecnico Zauli presenta questa partita Sogno la vittoria no ma io Sant'Arcangio è stata una parentesi piacevolissima ho incontrato oltre ai risultati sportivi ho incontrato persone ottime dove ancora oggi ho un rapporto splendido quindi quella è una parentesi calcistica che difficilmente dimenticherò e adesso arriva in questo momento dove per noi chiaramente è fondamentale cercare di fare la partita migliore possibile per portare a casa tre punti che ci permetterebbero di riagganciare tante squadre di trovare autostima in noi stessi di affrontare quelle successive 15 partite con una autorevolezza diversa perché oggi chiaramente veniamo dalle ultime tre partite dove abbiamo fatto veramente regali perché secondo me abbiamo buttato via veramente la possibilità di fare punti in maniera quasi grottesca e quindi abbiamo una grande voglia di riconquistare quello che abbiamo perso appunto in queste ultime tre partite sono arrivati tutti i ragazzi è stato fatto un giusto mix di esperienza con tanti ragazzi anche più giovani che hanno voglia di fare bene di confermarsi di migliorare la propria la propria carriera quindi a oggi sono sicuramente contento poi però è il campo che dà le risposte e quindi dovrà essere il sottoscritto dovranno essere i nuovi giocatori i vecchi giocatori a migliorare quello che fino ad oggi siamo stati però io personalmente del mercato sono contento anche se chiaramente lo dovremmo dimostrare io penso che questa squadra abbia ritrovato e abbia trovato col mercato una personalità diversa quindi io sto allenando questa squadra e mai come mai neanche nel mio primo periodo la sento sento questa empatia tra me e la squadra poi so benissimo che chiaramente i risultati non vengono a società di librissima di fare il bene come ha fatto con i portieri il bene per questa squadra ma io oggi sono serenissimo perché la cosa più importante che sento è l'empatia con i giocatori è chiaro che tutti poi i risultati faranno la differenza e tutti noi vogliamo che venga questa grande vittoria di domenica prossima ma non tanto per la classifica che è importantissimo ma soprattutto perché la squadra deve credere nel proprio potenzialità che ha scendiamo ora in serie D domani alle 14.30 si giocheranno le gare della quinta giornata di ritorno il match di cartello è alle Gran Sasso d'Italia Italo-Aconcia dell'Aquila perché la squadra di Morgia riceverà una delle co-capoliste ovvero l'Arzachena che guida il campionato pari merito con il Monterosi trasferta sarda per l'Avezzano sul campo del Muravera mentre invece nel girone F il Pineto cerca la continuità dei risultati contro la Iesina mentre l'Ava stese il San Nicolò giocheranno in trasferta e cercheranno la prima vittoria del 2017 i recuperi delle partite del girone G hanno restituito smalto e rinnovato le ambizioni delle due abruzzesi l'Aquila doveva battere il Rieti e lo ha fatto il distacco dal primo posto sarebbe stato altrimenti difficile da colmare ora la squadra di Morgia sarà attesa da un altro scontro diretto stavolta coi sardi dell'Arzachena una delle due squadre capaci di battere in campionato il rosso-blu la posta in paglio anche in questo caso è alta battere gli isolani che ora condividono la vetta col Monterosi vorrebbe dire vendicare la gara d'andata e completare l'aggancio in classifica mancheranno Bonvissuto appiedato per quattro giornate e Peluso che purtroppo per l'Aquila dovrà stare fermo per un mese e mezzo l'Avezzano invece vuole intraprendere la marcia verso il quinto posto distante cinque lunghezze la spinta arriva dalla vittoria sul Sansepolcro che mette una pietra sopra il K.O. interno con l'Alba Longa di domenica scorsa da scacciare c'è l'incubo delle squadre sarde visto che per i marsicani si profila la trasferta sul campo del Muravera squadra impelagata in zona play-out ma che all'andata è spugnoile dei marsi dando il primo dispiacere alla squadra di Tortora assente lo squalificato Tabacco punto fermo dell'attacco Padovani tre gol nelle ultime tre partite nel girone F tra sconfitte recuperi e soste forzate è stato un gennaio negativo quello di Vastese San Nicolò le due abruzzesi di alta classifica per il San Nicolò c'è uno snodo cruciale contro una rivale di vertice come la Vispesa o Albenelli la squadra di Epifani attesa anche dal recupero di Matelica se vuole rientrare nella corsa primato non ha margini di errore e deve cercare di dimezzare da 12 a 6 punti di ritardo dalla capolista fermana domani a riposo per il turno previsto col Chieti anche la Vastese è chiamata ad una pronta reazione la vittoria manca dall'11 dicembre in trasferta dal 20 novembre al Tubal di partita durissima contro una Recanatesse che sta dando forti segnali di ripresa chi vuole dare continuità invece agli ultimi risultati è il Pineto che è uscito fuori dalla zona play-out e domani avrà a disposizione il secondo match interno consecutivo contro la Iesina Adriatici a caccia della terza vittoria consecutiva per allontanare la zona pericolosa e avvicinare il più tranquillo centro classifica è tutto per questa prima edizione del TG6 vi rimando alle prossime delle ore 19 e delle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie per la visione